Aggiungi un po' sta tavola che c'è un animo in più, se sbocchi un po' la sezionata è comoda che tu, gli amici a questo servono a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite non fanno andare via, dividi il companatico, raddoppia l'alegria. Si vedi il melli tal-figolli, il melli tal-figolli, un po' semplici diciamo che in missionsibili di tagli, quaggina di tagli il musibà, il melli in ghiadi intenta oi pura. ma n'uqdux n'zidu biskutelli A'o, Joggalitini. Ma n'uqdux n'amlu n'ufsa pura... ...o n'ufsa... ...mosh pura. ...illa ille... ...illews, wasabiha, ...gambijat, mosh cannella. ...modri... ...nishpilu, intri ta'o, Jogsela, amlu a'na, ...innne huwa l'qxra n'kannella. L'qxra n'kannella, ilvantaj naqraq li fija, ...uwa, illi hannikfted fiber. però l'isvantaj uwa gbirna għaxi t'għelfa kri-kullu s-sabiħ dalli qaħt t'allews aweka l'allews għanna 3-3 għramm n'amlu 3-3 għalmi għbar n'amlu 280 għramm tzokkur n'xokkulu 100 n'xokkulu n'xokkulu n'aqra rħiħ mish per exemple xalma ta' n'ameli sotu l'għinu fa yimmlaġiħ n'ameli lah n'aqra għoħi mishan ki tahtissin tiħi t'ajbah il-luħi m'a l'ews mmirabili mħiatra ibn mirabili mħiatra ibn s'nailvinkum l'hagja il-nevehra ijta'ajbah qawwek għandi s'anżyt titl vanilla fuq la bjattar biħ tejj glas mazzittu uš fil-tviya n'ibra biħru n'zidhuh maal liquid la ris fois liquiti integra via, jekk niffa uma t-eqtib gali txappa tqied, gga gguh nxappa lewz. N'gha dimu dada jib, jena għgħana għasmi txokur, su post txokur namlu, txokur n-daq zasker namlu lewz. N'nzijt rabijat tal-bajt, 3 rabijat tal-bajt, una gente a anti a semplicità ma ci ha già difficile azziddo la confettura shè la cinaisara confettura e a n'araldu l'us bildhorma sabiha 28 a n'araldu l'us bildhorma sabiha 28 Allora, come un po' che la serviva, come un po' che la serviva, come un po' che la taglia. Stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia l'allegria.